Il progetto che si è realizzato tra l'altro in questi giorni anche in Ancona e ad Osimo vuole animare quella che è la piazza principale, la nostra piazza della Libertà, con una serie di mercatini regionali tipici, quindi con stand che provengono dalle varie regioni d'Italia, per offrire un'occasione in più in realtà per venire a Macerata, per passeggiare nel centro storico. Il mercatino si svolgerà proprio dal 4 al 7 novembre, quindi si articolerà in più giornate per animare l'obiettivo poi principale, offrire occasioni di animazione, di partecipazione della città per vivere in maniera più partecipativa il nostro centro storico, quindi per favorire l'affluenza non solo dei maceratesi ma anche di quanti dalla provincia e dintorni vorranno trovarsi a Macerata in questi giorni. Soprattutto spazio alle tipicità, all'artigianato e sia puri di varie regioni. Esatto, un'apertura di Macerata verso le altre regioni d'Italia, verso gli altri prodotti. Si è da poco chiusa, si è chiusa proprio ieri, Cibaria quindi che ha offerto anche occasioni di approfondimento, non solo di consumo, su quelle che sono le tipicità regionali. Questo vuole essere un ulteriore contributo, in questo caso nel centro città, per avvicinarsi, per gustare e conoscere meglio le tipicità, le peculiarità delle altre regioni italiane.